Avasto inaugurato questa mattina nella sede della Cisla di Corso Mazzini uno sportello ad hoc dedicato ai lavoratori dello stabilimento Amazon di San Salvo a promuovere l'iniziativa la FIT, la Federazione dei Trasporti della Cisla Bruzzo e Molise e la FESLA, la Federazione dei Lavoratori Somministrati da Tipici. L'iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere la cultura della tutela e della dignità del lavoro nella nuova realtà dell'e-commerce san salvese operativa dal 1 agosto scorso. Costruire uno sportello, una casa dove i lavoratori che in questo momento operano su Amazon, quindi alle dirette dipendenze di Amazon o per il tramite delle agenzie possano avere un luogo all'interno del quale essere accompagnati nella gestione del loro contratto di lavoro. Hanno la possibilità di venire da noi, di conoscere le regole che sono legate ai contratti che vengono sottoscritti dalle agenzie, nel caso specifico dei somministrati e conoscere tutte le tutele che il Welfar attraverso la contrattazione nazionale eroga e mette a disposizione di questi lavoratori. Quindi un obiettivo di accompagnamento, un obiettivo di conoscenza dei diritti e un obiettivo anche di rendere questi diritti esigibili perché le stesse prestazioni che noi spiegheremo e racconteremo ai lavoratori potranno essere richieste proprio dai nostri sportelli. La platea dei lavoratori interessati di circa 1.500 con numeri in crescita verrà fornita assistenza nella gestione del contratto spedizione, merci e logistica nonché nella richiesta di forme di Welfar, quali sostegno a reddito e tutela sanitaria per quanto attiene i rapporti di lavoro interinali. Questo è un modo per tutelare tutti i lavoratori a prescindere dalla loro forma contrattuale che siano appunto diretti, assunti diretti Amazon e assunti anche attraverso agenzie interinali, quindi in somministrazione. Il nostro è appunto l'obiettivo primario, è avvicinare tutti i lavoratori anche nell'intenzione di far conoscere tutte le tutele e i diritti che prevede il loro contratto nazionale, il quale comunque li viene applicato. Mi viene in mente la prima cosa che mi viene in mente è la conoscenza del fondo sanitario che prevede il contratto merci e logistica ai quali sia i lavoratori che i familiari possono accedere gratuitamente a molti servizi e a molte prestazioni sanitarie.